Non andate via, ci sono gli insanguati, i poni, quindi la serata continua, come è continuato tutto il pomeriggio, alla grande. Mezzo meccanico in movimento, ricordiamo i puliedri, c'è in posto l'LF di Minopoli, l'ideale Luis, mentre nel Gran Premio, alla grande, Toselanchiu, con Umberto Tudic al training, Mainz Alki, bentornata a Robi Nazionale. Ottimo l'allineamento, inizia a prendere velocità la macchina. Problemi per il 9, obelisco che poi si riprende ma perde contatto. Via la macchina. Olimpico, proprio alla chiusura, lotta con Porto Stommi ma a largo incombe Paride Musk. Passa Olimpico con a largo Paride che viene a chiedere strada. Si completa il lancio, Olimpico allunga, vuol correre al comando, 13 e 2, cerca di farsi spazio riccio e la cosa avviene al completamento quasi della prima curva. E così Olimpico in chiusura, 2 euro, al comando. Quarto iniziale, 28 e 2, un po' scatenato, questo ok, Luca Fierro sdraiato. Per linee esterne tentano la risalita, i ritardatari capeggiati da Ravelbrook. Si completano i 600, 42 e 9 da 1, 11 e mezzo. E' ancora sdraiato, Fierro. Cavalli sulla penultima curva. La risalita diventa dura, almeno per il momento, viene via anche Merola. Mezzo miglio, 58 e 4, 15 e mezzo di frazione. E di fronte sempre Olimpica a buona andatura, su Paride si affaccia Ravelbrook. Chilometro bollente per la categoria, in 1, 13 e 2, 500 alla meta. Viene via il 13 di Pier Vincenzo, ma trova un po' di traffico, Olimpo in chiaro vantaggio. Tenta la fuga a palo lontano, ma a buon vantaggio. Eloquente 14, 81 e 28, tre quarti di miglio. Olimpico ora deve essere sostenuto. Luca Fierro fa braccia e un po' di frusta. Completamento della curva finale, un calvario la letta d'arrivo. Olimpico ancora a buon margine, ma inseguito dal numero 5, Ravelbrook. Vengono via l'11, eccolo qua, oltre coda. E anche il 6 di Paride. Cavalli in zona traguardo, Olimpico al comando. Ci prova oltre coda. Oltre coda, Peppe Maisto. Doveva firmare anche lui. Il poveriggio, mancava la sua firma e il suo timbro. E all'ultimo dice, signori, siamo sempre qui a comandare the operation. Peppe Maisto, una vittoria veramente personale, con questo oltre coda, che paga 24,47 euro. Carramba per Peppe Maisto. Antonio Improda al training, scuderia allevamento Sangone. Mainzal, con Peppe Maisto, nazionale. Per il secondo, fotografie tra Olimpico e Paride Masch. 11 e foto. Grazie ancora per chi mi ha collaborato per tutto il pomeriggio. Lascio la linea ora a Emilio Migliaccio, che c'è posta per lui la corsa degli insanguati, dei trottatori mini. Buonasera a tutti, alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.